1111 1111 gli angeli dicono che la tua mano riceverà una grande somma di denaro. Messaggio dell'angelo Gli angeli annunciano che entro breve tempo riceverai, grazie alla grazia di Dio, una notevole somma di denaro da fonti sconosciute e inaspettate. 1212 Ha dichiarato vittoria, pace, guarigione e benedizioni finanziarie sulla tua vita. Ricorda sempre che la mia parola è definitiva e non permetterò ai tuoi nemici di fare del male a te o alla tua famiglia. Scrivi 1111 se confidi in Dio. Gesù dice che lo stress, la frustrazione e le notti insonni finiranno presto, come farò io. Sostituiteli con chiarezza, pace e completezza. Caro Signore Gesù, il tuo amore è più grande di qualsiasi cosa in questa vita. Aiutaci a ricordare le tue numerose benedizioni ogni giorno. Il tuo amore e la tua grazia sono infiniti. Commenta ad affermare. Un cambiamento significativo è in arrivo nella tua vita. Ti renderai conto di come passi dalla scarsità all'abbondanza, dalla confusione alla chiarezza, dal dolore alla pace e dalla povertà alla ricchezza. Preparati per una settimana piena di meravigliose ed entusiasmanti notizie finanziarie, progressi, sorprese e benedizioni ancora più grandi. Sei pronto a ricevere tutto questo con fede e gratitudine. Se è così, scrivi 11 e condividi questo video con qualcuno di speciale che confida nel potere divino. Il Creatore ci sta dicendo che sta per aprire porte che sono rimaste chiuse per molto tempo e che all'improvviso la tua vita sarà inondata di miracoli che porteranno cambiamenti significativi e positivi. Ecco perché guarda questo video fino alla fine, perché questa settimana Dio ha miracoli inaspettati per te, le tue benedizioni triplicheranno e diventerai un esempio vivente che tutto è possibile quando Dio è al tuo fianco. Dio sta spezzando, dimostrando che i miracoli divini sono reali e hanno il potere di trasformare. Dio sta spezzando tutti i cicli negativi della tua vita. Stai per entrare in una nuova stagione di libertà, prosperità e abbondanza? Scrivi 1212 se credi in questo messaggio con il tuo cuore. Dio dice, non ho mai ignorato le tue preghiere, anche se a volte rispondo in modi che non ti aspettavi. Stai entrando in una stagione di miracoli e benedizioni. Mando i miei angeli davanti a te per distruggere qualsiasi piano del nemico. Credimi, i prossimi sei mesi saranno fantastici. Riceverai benedizioni come mai prima d'ora e le tue sfide e i tuoi problemi saranno risolti in modi inaspettati. Tutta la tua famiglia sarà benedetta e due miracoli appariranno quando ne avrai bisogno. Digita 2222 se credi Dio dice che riponi fiducia in me perché ho grandi progetti per la tua vita. Benedirò te e i tuoi cari. Se ami Dio. Tutto nella tua vita andrà meglio, hai pianto e aspettato abbastanza a lungo. Il Signore ti benedica e ti protegga. Possa il Signore far risplendere il suo volto su di te e avere pietà di te. Digita 2121 per riceverlo. Dio sta per riversarti la sua bontà. Ha deciso che la persona che vedrà questo diventerà milionario nei prossimi tre mesi. Voglio portare felicità alla tua depressione e pace alla tua ansia. Chiamami e sarò lì per te in pochissimo tempo mentre dichiari verbalmente Gesù come Signore e abbi fede nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato, otterrai la salvezza. Dio ti dice che se lo vedi adesso, se continui a camminare per fede, troverai la benedizione più grande che tu abbia mai sperimentato in tutta la tua vita. Ti darò l'anima gemella dei tuoi sogni e questo non sarà per tua volontà. Potenza, ma per la grazia e l'amore del tuo Dio Onnipotente che è nei Cieli. Niente può fermare le benedizioni che ti arrivano. Sei stato scelto per ricevere questo dono e ora è divinamente tuo, Dio ci dice, ho la felicità eterna da offrirti se sei stanco di sentirti senza speranza, perso e triste. Vieni da me, benedirò la tua vita perché sei il mio amato figlio e ti amo incondizionatamente. Scrivi, ti amo Dio per dimostrare il tuo amore. Il piano di Dio è sempre più meraviglioso dei nostri desideri e il suo amore è più grande di qualsiasi difficoltà tu stanno affrontando. 1111 gli angeli dicono che la tua mano riceverà una grande somma di denaro. Messaggio dell'angelo Gli angeli annunciano che entro breve tempo riceverai, grazie alla grazia di Dio, una notevole somma di denaro da fonti sconosciute e inaspettate. Dio sa che hai passato una notte insonne, preoccupato per le bollette, i problemi di salute, i tuoi figli e il tuo futuro, ma abbi fiducia in me perché provvederò per te oltre ciò che ti aspetti. Se credi che la coscienza divina ti protegge e ti guida, sperimenterai una valanga di denaro che ti permetterà di pagare tutte le bollette e i debiti e persino di fare qualcosa in più per i tuoi figli. Se credi in Dio, metti mi piace a questo video. Ha dichiarato vittoria, pace, guarigione e benedizioni finanziarie sulla tua vita. Ricorda sempre che la mia parola è definitiva e non permetterò ai tuoi nemici di fare del male a te o alla tua famiglia. Scrivi 11 e 11 se confidi in Dio. Gesù dice che lo stress, la frustrazione e le notti insonni finiranno presto, come farò io. Sostituiteli con chiarezza, pace e completezza. Caro Signore Gesù, il tuo amore è più grande di qualsiasi cosa in questa vita. Aiutaci a ricordare le tue numerose benedizioni ogni giorno. Il tuo amore e la tua grazia sono infiniti. Commenta ad affermare. Un cambiamento significativo è in arrivo nella tua vita. Ti renderai conto di come passi dalla scarsità all'abbondanza, dalla confusione alla chiarezza, dal dolore alla pace e dalla povertà alla ricchezza. Preparati per una settimana piena di meravigliose ed entusiasmanti notizie finanziarie, progressi, sorprese e benedizioni ancora più grandi. Sei pronto a ricevere tutto questo con fede e gratitudine. Se è così, scrivi 11 e condividi questo video con qualcuno di speciale che confida nel potere divino. Il Creatore ci sta dicendo che sta per aprire porte che sono rimaste chiuse per molto tempo e che all'improvviso la tua vita sarà inondata di miracoli che porteranno cambiamenti significativi e positivi. Ecco perché guarda questo video fino alla fine, perché questa settimana Dio ha miracoli inaspettati per te, le tue benedizioni triplicheranno e diventerai un esempio vivente che tutto è possibile quando Dio è al tuo fianco, dimostrando che i miracoli divini sono reali e hanno il potere di trasformare. Dio sta spezzando tutti i cicli negativi della tua vita. Stai per entrare in una nuova stagione di libertà, prosperità e abbondanza? Scrivi 1212 se credi in questo messaggio con il tuo cuore. Dio dice, non ho mai ignorato le tue preghiere, anche se a volte rispondo in modi che non ti aspettavi. Stai entrando in una stagione di miracoli e benedizioni. Mando i miei angeli davanti a te per distruggere qualsiasi piano del nemico. Credimi, i prossimi sei mesi saranno fantastici. Riceverai benedizioni come mai prima d'ora e le tue sfide e i tuoi problemi saranno risolti in modi inaspettati. Tutta la tua famiglia sarà benedetta e due miracoli appariranno quando ne avrai bisogno. Digita 2222 se credi Dio dice che riponi fiducia in me perché ho grandi progetti per la tua vita. Benedirò te e i tuoi cari. Se ami Dio. Tutto nella tua vita andrà meglio, hai pianto e aspettato abbastanza a lungo. Il Signore ti benedica e ti protegga. Possa il Signore far risplendere il suo volto su di te e avere pietà di te. Digita 2.121 per riceverlo. Dio sta per riversarti la sua bontà. Ha deciso che la persona che vedrà questo diventerà milionario nei prossimi tre mesi. Voglio portare felicità alla tua depressione e pace alla tua ansia. Chiamami e sarò lì per te in pochissimo tempo mentre dichiari verbalmente Gesù come Signore e abbi fede nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato, otterrai la salvezza. Dio ti dice che se lo vedi adesso, se continui a camminare per fede, troverai la benedizione più grande che tu abbia mai sperimentato in tutta la tua vita. Ti darò l'anima gemella dei tuoi sogni e questo non sarà per tua volontà. Potenza, ma per la grazia e l'amore del tuo Dio Onnipotente che è nei Cieli. Niente può fermare le benedizioni che ti arrivano. Sei stato scelto per ricevere questo dono e ora è divinamente tuo, Dio ci dice, ho la felicità eterna da offrirti se sei stanco di sentirti senza speranza, perso e triste. Vieni da me, benedirò la tua vita perché sei il mio amato figlio e ti amo incondizionatamente. Scrivi, ti amo Dio per dimostrare il tuo amore. Il piano di Dio è sempre più meraviglioso. 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 Dio è sempre più meraviglioso.